Visto che c'era l'autombolanza ho detto cosa è successo se hanno sentiti male. Dice no, dice c'è stata una rapina, a regola gliel'hanno date, l'hanno... Ho detto ma non erano neanche le sette, ho detto vai vai, sta andando bene. Legata, picchiata e minacciata con un coltello, l'incubo è iniziato alle ore 19 per una signora di 48 anni, titolare di un vivaio a Vergaio nei pressi di Via Tobbiana. Una rapina rapida ed efferata che ha fruttato ai tre malviventi circa 700 euro in contanti. Signora giovane, sono gente a posto. La signora oltretutto era già stata vittima di un bruttissimo episodio di cronaca solo pochi anni fa, come rivela questa sua conoscente. Era a letto di notte, mi pare di dare alle 3, alle 4, l'era preparata per andare ai mari e invece a regola la si ritrovò proprio questa in casa. Il sospetto più che fondato è che la rapina di Vergaio sia ad opera degli stessi banditi che lunedì sera hanno assaltato una villetta nella zona di Figline, sempre a Prato. In quel caso i ladri hanno anche esploso due colpi di pistola durante la fuga. La polizia ha già aperto nuove indagini.